E' un'ipocrisia, ha detto lei, dire che con l'amianto abbiamo chiuso dal 92? Certo, perché dopo il 1992 rimane molta bonifica da fare. Gran parte dell'Italia è piena di amianto in varie superfici, in molti territori. Non solo per le applicazioni che sono state fatte nell'economia, ma anche per i siti industriali che ricorrevano all'uso dell'amianto, comunque erano strutturati con materiale contenente amianto. Oggi in Italia noi abbiamo centinaia di siti che contengono amianto, alcuni di questi sono delle realtà industriali non bonificate e di cui nessuno si sta occupando per la bonifica ambientale. Oltre questo ovviamente stiamo pagando oggi il prezzo in termini di salute collettiva, individuale, dell'esposizione ad amianto che abbiamo avuto per alcuni decenni nelle nostre fabbriche, nei nostri cantieri, anche nelle piccole realtà artigianali. In Italia abbiamo circa 4.000 morti all'anno in materia di amianto, vuol dire uno ogni tre ora. E questo ovviamente è una guerra che ci fa parlare di veri e propri crimini di pace. La legge come è intervenuta in maniera frammentaria con interventi d'emergenza? Questo che cosa ha comportato finora? Il tema è così vasto che il legislatore ha potuto dettare degli interventi normativi quadro come la legge del 1992, la numero 257 o il testo unico in materia di sicurezza del lavoro, ma tanti altri interventi normativi su problemi di emergenza, su determinati siti, su determinate realtà normative e imprenditoriali. E quindi oggi il quadro normativo è frastagliato, è vasto, in alcuni punti anche schizofrenico, ed è necessario ricondurre tutte queste norme a un unico sistema organico, cioè a un testo unico in materia di amianto. C'è speranza, secondo lei? È auspicabile che questo avvenga? Non è una speranza, nemmeno un auspicio, è un dovere che abbiamo nei confronti di chi ha lavorato con l'amianto e oggi muore e nei confronti di tutte le generazioni future. È un problema che comunque va sradicato.